Radio Bruno in diretta dal Festival di Sanremo Eccoci dall'area stile del Royal Hotel Sanremo qui a Radio Bruno con Ron, benvenuto Ciao, grazie, come stai? Molto bene, tu? Molto bene Parliamo della serata delle cover, una scelta molto bella, non sarai solo sul palco, ci sarà anche Annalisa Annalisa, sì, che io stimo tantissimo, mi piace tantissimo, la trovo veramente un'artista internazionale e abbiamo scelto questa canzone bellissima che si chiama Insieme a te non ci sto più è una canzone di tanti anni fa, è una canzone che io cantavo ai concorsi per voci nuovi, pensa e ne ho vinti anche un po' con questa canzone, per cui insomma ho provato a cantarla come veniva adesso e insieme ad Annalisa l'abbiamo provata e ci piace Ed è sullo stile della versione originale oppure tutta vostra? Abbastanza diversa, no no no, abbastanza diversa, era doveroso farla diversa Ok, quest'anno il regolamento prevede diverse eliminazioni, insomma Carlo Conti l'ha resa un po' più movimentata questa settimana Sanremese, sei per la gara, sei invece per la canzone, so che comunque c'è questa bellissima riedizione del tuo album quindi al di là di tutto era per rinnovare questo tuo... Ma insomma, quando uno ci mette sei mesi per mettere insieme 24 ospiti che cantassero con te in un disco doppio ospiti straordinari eccetera, da Giovannotti a Loredana Bertè, a Malika Jan, a De Gregori eccetera e venissero a cantare tutti insieme eccetera per poter fare un disco dove i proventi vengono tutti consegnati all'associazione italiana Slerosi Laterale Amiotropica che si occupa di SLA per cui questo danaro andrà a favore della ricerca e siccome i dischi se ne vendono sempre pochi me lo sono ripreso ancora questo disco che è quasi novello e l'ho riportato a Sanremo con questa canzone nuova ed eccolo lì ancora pronto per essere acquistato E noi siamo invece molto contenti perché questo percorso dall'idea alla realizzazione l'abbiamo vissuto tra il Radio Brunestate e Sanremo, insomma, ce l'hai spiegato di passo in passo ed è meraviglioso, insomma, quello che hai pensato e che continui a fare Ma io, insomma, credo che quando uno accetta di fare una cosa io poi, vabbè, sono testimonial di questa associazione ma è anche vero che se uno accetta di fare il testimonial non lo può fare così quando vuole lui, insomma, io faccio parte anche del consiglio direttivo dell'Aisla per cui quando faccio una cosa la faccio molto, molto seriamente Bene, ci salutiamo qui, quindi se vuoi salutare a tua volta gli amici di Radio Bruno Allora, tutti gli amici di Radio Bruno, un grande, guarda, c'è anche scritto qua Radio Bruno, un grande saluto da Ron, ciao Grazie mille Ron Grazie a te Radio Bruno, in diretta dal Festival di Sanremo In collaborazione con Grissimbon, Silvestri e Taddei, abbigliamento maschile Biperbanca, Campani Group, Mondo Convenienza, Modena Giochi e i Rosanna Alpi La moda che si distingue